e oggi vedremo dal 2002 al 2020 come è cambiata nel prossimo degli anni wow dovrebbe uscire un nuovo gioco bene di questo capolavoro per testo ciò che non per testo vediamo un po come cambiato da questo qua il 2002 2003 già si vede che meglio wow bello pazzesco mi sento che ci volevo dire questo gioco ce l'ho anche per psp ma l'ho giocato pochissimo ho giocato e non spara tutto più o meno super mario giusta è bello 2004 o salta addirittura sui tetti occhio mamma mia ok fuori grande tantissimo effettivamente non so quanto siamo fii di questi giochi fino a quando si sono stati se sono usciti continuamente nel corso degli anni a sera al dopo quando ho scritto l'ultimo 2020 proprio 2005 ok 2005 e quindi c'era già questo gioco wow chissà fin dove è arrivato top 2007 che il 2006 non è stato fatto allora qui è un nuovo potenziamento che è bello questo gioco mi si è anche facciato tantissimo che non ho mai finito perché secondo me ecco perché wow 2007 sono usciti due probabilmente perché nel 2006 non è uscito è uscito nel 2007 2 questo perché no tanto una di voce mi scuso 2008 wow wow cos'è diventato invisibile grande mamma mia fantastico la vita ok ok 2 via 8 c'è anche c'è tantissimo questo gioco giuro qui c'è anche i boss niente meccanica stile super mario sono e più belle la fine giochi dopo il po che non mi scomma 2009 mesi sono più usciti tutti gli anni questi giochi o questo cammini cosa molto meccanica stile don chi con che grande era tostissimo questo è un postissimo questi livelli o che figo però no raga tanta tanta roba giuro chissà come sa cosa cosa la collo quest'anno 2011 2010 niente ok cosa fa deve sparare 2011 2011 ha battuto la muraglia con delle bombe credo 2 mila e 12 13 non riesco a vederlo cos'è non so non lo vedo 11 1 12 12 15 15 15 15 15 15 2016 che è 14 15 non è stato fatto nulla 2016 già verrà già finita dice carino a nuova meccaniche come sempre ma cos'è quella che prende esperienza vita 2020 ok si è conclusa così ragazzi wow c'è tanta tanta roba playstation 5 il top guardate già la grafica come il massimo secondo me bello 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 merita molto merita merita molto sì ragazzi abbiamo finito e abbiamo finito niente vi ringrazio per la visione se vi è piaciuto spolliciate sono stati iscrivetevi e noi c'erano cassino video un saluto ciao ragazzi mi sono fermato un pochino perché dopo c'è la politica bella mi sono fermato un pochino